GF 15, Bahie rimproverato in diretta per Aida Il chenumano entra nella casa per 24 ore e Bahie ed Ameri entra nella casa. Gli igligots del GF 15. A poche ore dalla messa in onda della quarta puntata del Grande Fratello 15, sembra che non si parli daltro, nel corso delle ultime ore, è spopolata la news che vede Bahie e Ameri ricevere un rimprovero nel corso della nuova diretta del reality show condotto da Barbara D'Urso. Le novità della quarta diretta anticipate online, i dettagli. La terza diretta ufficiale del Grande Fratello 15 ha decretato, lo scorso lunedì sera, la squalifica dal gioco di Bahie e Dame e l'eliminazione di Patrizia Bonetti, la defina con la quale Luigi Favoloso, fidanzato storico di Nina Morick, avrebbe un flirt. . 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